Mi chiamo Lucia, lavoro in medicina interna e policlinico. La mia unità operativa è stata sempre in prima linea nella lotta contro il covid nei vari picchi della pandemia e voglio portare un ricordo particolare a tutte le vittime e ai nostri pazienti che abbiamo avuto ricoverati in questi anni, un pensiero per i familiari che hanno avuto delle perdite e che noi operatori ricordiamo spesso e a cui siamo stati vicini e lo siamo ancora. In questa giornata particolare noi della reanimazione di Baggiovara con questo breve messaggio rivolgiamo il nostro pensiero a tutti gli infermieri, i medici e gli operatori sociosanitari che hanno lottato duramente contro questo virus. Inoltre vogliamo dedicare un momento a tutti coloro che hanno sofferto per la perdita del loro caro e per non aver avuto la possibilità di starli vicino fino alla fine. Nella nostra esperienza abbiamo capito che non ci sono lì ma ovunque essi siano rimarranno per sempre nel nostro cuore. Mi chiamo Serena, lavoro in terapia intensiva al policlinico. In questa giornata desideriamo ricordare i pazienti che sono stati qui ricoverati durante l'epoca della pandemia e le loro famiglie. Vogliamo che arrivi loro il messaggio che in momenti difficili, di grande dolore e difficoltà noi comunque c'eravamo ed eravamo accanto a loro. Inoltre vogliamo ricordare oggi anche tutti quegli operatori sanitari, infermieri, medici e os che purtroppo non ce l'hanno fatta e sono vittime anch'essi del Covid.